al mio 3 farò l'imitazione di youtube anch'io permettendovi che non sono molto bravo cercherò di sforzarmi per quel che posso questo è un famoso youtuber formoso che ha l'abitudine di mangiare diversi piatti diverse pietanze 1 2 3 via ciao amici di youtube oggi cercherò di sforzarmi nel mangiare questo pollo alla diavola seguito da rusticini fritti tutti per voi ve li mangerò seduto stante prevedendovi che non è semplice andare avanti cercherò di farli fuori tutti e poi vi mangerò un piatto di spaghetti alla matriciana solo per voi solo per voi perché vi voglio bene e perché e perché ci tengo ad avere del rispetto nei vostri confronti vediamo quello che succederà sapete però che il pollo me lo finisco tutto e poi vediamo quello che accadrà permettendovi che sarà un'azione d'ora un'azione drammatica ma nonostante tutto proverò a finirmi il pollo alla diavola e gli spaghetti alla mattriciana solo per voi e unicamente per voi racconto un piccolo aneddoto ieri ero rosagno e nella mia città è passato un signore mi ha indicato la strada per andare al bagno e l'ho fatta fuori dal eccesso la pipì grazie e grazie a voi gentili followers di youtube ecco ha fatto cagare la mia abitazione però spero di avervi divertito un pochino questo è un video omaggio nei suoi riguardi non è un video di diffamazione o di offesa ripeto è semplicemente un video omaggio a lui dedicato ciao da leandro il conoscitore italiano